L'Europa nella mia regione, questo è il titolo dell'incontro svoltosi questa mattina a Teramo presso la Camera di Commercio. Una giornata organizzata dalla Regione Abruzzo per la presentazione di offerte nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei a gestione diretta. La Regione Abruzzo si accinge a intraprendere un'ulteriore attività di supporto nell'ambito della informazione, comunicazione e sensibilizzazione circa le opportunità provenienti dall'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea. Quindi questa serie di incontri vuole essenzialmente mettere a fuoco la possibilità e far sì che tutti i diversi soggetti pubblici e privati che sono interessati e che operano nell'ambito del territorio regionale possano cogliere queste opportunità. Nell'ambito di questa attività c'è anche la presentazione sul territorio del neofita, del nuovo servizio di europrogettazione che vuole essere una struttura di supporto molto più operativa e diretta affinché possa fare da feedback e possa supportare, specialmente nell'ambito degli enti locali, quindi dei soggetti pubblici, tutta una serie di attività che sono fondamentali al fine di avanzare candidature nell'ambito dei progetti a finanziamenti diretti. Nello specifico, quindi in queste occasioni, in questi incontri, sottoponiamo l'attenzione dei partecipanti e anche quelle che sono le opportunità provenienti dall'utilizzo di altri fondi, i cosiddetti fondi strutturali, affinché, come dicevo prima, tutti coloro che sono interessati possano coglierne a pieno e poter eventualmente partecipare a questi bandi, che sono lo strumento fondamentale dell'Unione Europea per far sì che le risorse finanziarie possano essere trasferite nei territori.